Ritengo inutile l'incontro di domani, prima di tutto perché a giorni, così come dichiarato dal presidente della regione Schifani, saranno nominati nuovi direttori generali delle Aspe siciliane e poi perché gli impegni assunti dal commissario dottor Fabrizio Russo a novembre non sono stati mantenuti. E' caustico il commento del sindaco di Vozzallo Roberto Ammatuna sulla conferenza dei sindaci a tema sanità, convocata inizialmente per lo scorso 18 gennaio e poi rinviata a domani. A quasi due mesi, precisa Ammatuna dall'ultimo incontro del 29 novembre scorso. Nell'ultima riunione dello scorso anno, prosegue Ammatuna, i sindaci chiesero di essere messi nelle condizioni di proporre soluzioni con l'invio di tutti i dati dell'anno 2023, numero di ricoveri, degenza media, risorse umane disponibili, eccetera. Da allora a tutt'oggi nulla è pervenuto ai sindaci, nessuna notizia di provvedimenti adottati, tranne qualche comunicato stampa politico, prosegue Ammatuna e non si capisce di cosa si dovrebbe discutere nella riunione di domani, conclude il primo cittadino che potrebbe essere opportuno rinviare. Grazie.